No, un ottobre di fuoco sicuramente, però abbiamo noi tutte le carte regole per poterle affrontare in una maniera serena. Un turnover non ho bisogno di farne, io ho 27 soluzioni uguali, con delle caratteristiche giocatori diversi, ma tutti forti, quindi affronteremo queste partite con la consapevolezza di una rosa importante, con la consapevolezza che ho un gruppo disponibile, forte, e quindi per noi questo non può essere assolutamente un problema. Il problema che gli altri già hanno giocato può essere solo sotto il profilo che a noi manca il ritmo partita, e questo è una cosa che non lo possiamo nascondere perché in due mesi abbiamo fatto solo due gare, però abbiamo lavorato anche su questo e soprattutto sotto l'aspetto mentale, che in questo momento siamo come una macchina pronta a partire che aspetta dal semaforo rosso che passi a verde con tanta voglia, con tanto entusiasmo e tanta voglia di andare in campo per cercare di fare veramente qualcosa di bello.